Ciao a tutti e ecco qua il secondo video sempre del nostro kit sprint tour di questa primavera e adesso vi parlo di bergamotto menta. Non amo particolarmente le menti, soprattutto non amo la menta piperita ma amo la menta spiccata e questo è dolce per me come la menta spiccata ed è veramente buono perché le menti sono davvero di diverso tipo. Bergamotto menta non è del frutto del bergamotto bensì una pianta sempre verde dalla quale si distilla, anzi meglio ancora dal gambo della menta citrata si distilla questo olio, soprattutto lo utilizziamo per creare un ambiente rilassante, anche per ispirarci le menti sono proprio anche questo, ci ispirano, ci danno quell'energia giusta, però ci fanno anche rilassare allo stesso tempo perché questo è anche molto importante. Dicevo che è una pianta sempre in fiore e la si usa tanto per la cura della persona, ottimo anche la sera quando si va a dormire proprio per fare un reset per calmare, è un rilassante, un confortante e lo possiamo anche sprayare, voi potete provare un nostro spray oppure come sempre lo usiamo nei nostri diffusori ce ne sono di vari tipi, lo potete mettere anche come tutti gli oli in un batuffolo di ovacca e magari negli armadi oppure con del diffusore naturale di pietra lavica e anche qui potete aggiungere delle gocce e metterlo nell'armadio, io infatti questi due ce l'ho sempre nell'armadio proprio perché ogni tanto cambio la fragranza, anche contro le tarmi ad esempio, che non è questo il caso però un sederud ad esempio contro le tarmi, pure il batuffolo lo potete mettere anche quelli rotondi, ne mettete qualche goccia, lo mettete in auto perché si calma dallo stress del viaggio, però essendo che cementa ci dà anche quella sensazione di energia pertanto non ci fa addormentare, oppure come faccio io che metto sempre le mani nei capelli e perciò i miei capelli sanno di spa e quando vado in giro mi dicono che runa a sentire il quando arrivi tu arriva già la scia prima di te, ti precede, ecco utilizzate, io ho scoperto bergamotto mint in questo kit e ne sono assolutamente felice, insieme a come dicevo nell'altro video da rama che è veramente buonissimo, il tulsi di cui parlerò fra un attimo e la saponetta balance che è la saponetta equilibrante, ci vediamo presto e buona giornata a tutti voi, namaste a tutti voi, namaste